secondo step tre uova che vado a battere salate e ovviamente messe di pepe con la consistenza giusta farina farina zucchine in farina uova e le andiamo a friggere farina uova e le andiamo a friggere farina uova farina farina uova uova e le andiamo a friggere questo procedimento lo facciamo per tutte e poi dopo le andiamo a mettere praticamente nella filofila che va messa al forno insieme alla provola ciao agliù a fra poco e che ve lo dico a fare